ciao ragazzi nel nostro progetto gravellata pedaliamo con bc 3t explorer race siamo illustratori di professione quindi abbiamo deciso di metterci i nostri disegni anche sulla bicicletta siamo andati da lara e toni di toni spray a treviso nel loro laboratorio è stata una giornata incredibile ed abbiamo visto due maestri della customizzazione dei telai e hanno fatto un lavoro magnifico è stato un continuo confronto con lara e toni sono due artigiani bravissimi abbiamo sempre tenuto d'occhio le nostre illustrazioni con il telefono i nostri file vettoriali e dopo loro hanno sviluppato le maschere da applicare sulla forcella e sulla bici la parte più difficile è stata la forcella chiaramente per noi da illustratori abituati a lavorare sul piatto sviluppare una forcella è stato è stata una sfida un po alla volta abbiamo visto nascere la forcella ogni colore è nato da una mascheratura a sé quindi si partiva dai colori più chiari fino più scuri maschera smaschera dai colore questo è stato il processo abbiamo scelto due colori principali per per questa bicicletta il giallo perché è il colore preferito di andrea e viola perché è il mio una volta che lara e toni hanno concluso la loro opera i telai sono stati spediti di nuovo in sede da 3t bike a presezzo dove mario li ha preso in custodia diciamo le nostre biciclette le ha montate e le ha preparate in modo assolutamente perfetto adesso prendiamo le nostre bici e ci andiamo a fare un bel giro e continuiamo col nostro giro a presto